Un nome evocativo, piccoli eroi, per un corso di formazione dalle finalità importanti. Aiutare gli insegnanti a trasmettere ai propri alunni il valore delle attività motorie e favorirne la ripresa completa dopo il Covid. Un'iniziativa, quella del Comune di Chieti e dell'Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la Federazione Gioco Handball Abruzzo, che gestisce il Pala Santa Filomena, che guarda anche alla continuità sportiva dei piccoli arrivati dall'Ucraina. Abbiamo da subito recepito quella che è stata l'istanza dell'Ufficio Scolastico Regionale di quello provinciale. Abbiamo dato piena disponibilità, non soltanto con la disponibilità dell'impianto del Pala Santa Filomena, unitamente alla Federazione Gioco Handball, alla quale abbiamo affidato in gestione questo impianto, ma soprattutto un modo per ribadire l'importanza dello sport di base, l'importanza dell'attività motoria per quelle fasce di giovanissimi, specie in una fase post-pandemica e di ripresa, specie in un momento così importante perché lo sport è uno straordinario veicolo di inclusione e di accoglienza e noi ci stiamo attivando anche per avviare percorsi che possano consentire ai bambini e alle bambine ucraine di poter continuare l'attività sportiva, di poter percepire un po' di normalità in una situazione che è tutt'altro che normale. Ci siamo attivati sin da subito insieme al nostro sindaco e l'iniziativa di oggi, unitamente a tutte quelle che metteremo in campo insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, ma insieme anche alle associazioni sportive che si stanno prodigando in questo periodo, ecco, questo è qualcosa di importante e ci tenevamo molto, ci stiamo impegnando in questa direzione. In questi paesi come l'Ucraina, la stessa Russia, ma anche l'Ucraina, lo sport è una componente importantissima, fondamentale della formazione dei giovani. Assolutamente sì, infatti abbiamo anche allargato il discorso perché in un precedente Consiglio Comunale, proprio su istanza di una nostra consigliera di maggioranza, la consigliera Di Pasquale, abbiamo avviato un percorso che mi ha visto e che ci ha visto coinvolgere il Ministero per le Politiche Giovanili, la Ministra Fabiana Dadone, proprio per cercare di sollecitare a livello nazionale anche dei tavoli con le federazioni sportive nazionali, con il CONI, affinché potessero essere messe a disposizione fondi proprio per la continuità sportiva dei giovani e delle giovani atlete ucraine.